Una volta definita la mappa degli attori che a vario titolo sono coinvolti nel processo di apprendimento, dobbiamo cominciare a conoscerli per poi progettare al meglio la nostra esperienza. È quindi utile descriverli sinteticamente. Non si tratta di un lavoro di indagine esaustivo, di un'analisi perfettamente rispondente alla realtà, piuttosto di un processo di tipo creativo mirato a sviluppare la nostra consapevolezza rispetto alle caratteristiche chiave dei principali attori coinvolti nella rete, ovvero studenti e docenti. Quando prepariamo un corso implicitamente formuliamo delle ipotesi rispetto agli attori inseriti nell'esperienza didattica. Attenzione, non si tratta di formulare ipotesi solo relativamente agli altri attori inseriti nel processo. Dobbiamo anche formulare ipotesi e descrivere le caratteristiche legate a noi stessi, in quanto docenti designer. Mettere le ipotesi su carta ci aiuta a creare un processo di apprendimento e insegnamento che sarà più coerente. Non solo ci aiuta a confrontare le ipotesi messe su carta con la realtà una volta che andremo in aula. In caso di un grosso discostamento potremo apportare correttivi che ci permettano di raggiungere efficacemente i risultati di apprendimento attesi. Per descrivere gli attori prendiamo ancora spunto dalle varie tecniche di progettazione user-centered e anche da varie università che si occupano di progettazione didattica basata sull'osservazione degli utenti inseriti nel processo. In primo luogo andremo a focalizzare per gli attori coinvolti obiettivi e aspettative, siano essi personali, pratici, istituzionali e professionali. Per esempio, per quanto riguarda gli studenti, potremmo andare a individuare obiettivi di sviluppo di competenze specifiche legate a futuri sbocchi lavorativi, piuttosto che per i docenti obiettivi di sviluppo della propria area di ricerca. Per quanto riguarda le caratteristiche degli utenti coinvolti, dovremmo andare a considerare, per esempio, caratteristiche legate a livello di conoscenza ed esperienza pregressa degli studenti coinvolti nel processo, piuttosto che il background culturale dei docenti a livello di conoscenza ed esperienza specifica, ma anche le attitudini personali dei docenti riguardo all'esperienza didattica e i processi di insegnamento e apprendimento. Dovremmo inoltre andare a considerare i vari vincoli e necessità degli utenti coinvolti. Siano essi, per esempio, vincoli in termini temporali oppure vincoli in termini strumentali. Questi vincoli vanno considerati sia per studenti che per docenti. Infine, un ultimo aspetto da tenere in alta considerazione è l'aspetto motivazionale. Sappiamo che per gli studenti l'aspetto motivazionale influenza notevolmente l'apprendimento. Ma anche per quanto riguarda i docenti, l'aspetto motivazionale è importantissimo. Un docente che è altamente coinvolto nell'esperienza di apprendimento e insegnamento e ha un'alta motivazione andrà oltre la tradizionale trasmissione di concetti, contenuti, abilità. Andrà a trasmettere anche interesse e passione per la materia. Una volta che abbiamo creato la mappa degli attori coinvolti nell'esperienza di insegnamento e apprendimento e ne abbiamo descritto le caratteristiche di principali, come procediamo nella progettazione dell'esperienza didattica? Il docente designer può selezionare alcuni fattori chiave che vorrà tenere in considerazione durante la progettazione. Attenzione, non è possibile soddisfare tutte le aspettative e necessità che emergono. Al contrario, il consiglio è di focalizzarsi su alcuni elementi chiave e su di questi lavorare in ottica sistemica, ovvero andando a modulare i vari elementi della rete dell'apprendimento, attività, contenuti, canali e mondo esterno in modo integrato. Ciò senza però mai sottovalutare le attitudini personali del docente che, in quanto guida dell'esperienza didattica, ha un ruolo fondamentale. Per concludere, al fine di creare la rete dell'apprendimento dobbiamo partire dall'individuazione dei nodi della rete e andare a descriverli sinteticamente in termini di obiettivi aspettative, caratteristiche, vincoli e necessità, fattori motivanti e demotivanti. Descrivere sinteticamente gli attori permette di mettere in luce gli elementi su cui andare a fare leva all'interno del progetto didattico. Avendo una chiara visione di insieme e padroneggiando diversi elementi del sistema, è semplice modificare in corso d'opera i vari elementi e le posizioni e i ruoli degli attori coinvolti, senza andare a snaturare il progetto didattico, ma massimizzando il raggiungimento dei risultati di apprendimento attesi.